Cari amici followers, oggi parliamo del concetto di pietà, ossia di quell'umiliazione necessaria allorquando si esce dalla Terra e si cerca l'aiuto di qualche incompetente che ci riporti a casa a bordo di una diligenza, eccezion fatta per quelli dell'astronave Barcelona, che si sono accontentati di 150.000 euro e un camper, evidentemente qualcuno aveva pagato per riavere il desaparecido Pieralberto, se li sono intascati, mi sono venuti a coionare alla stazione dei treni dell'omonima città mentre mi facevo la barba e mi hanno lasciato lì, sapendo che se avessi continuato il viaggio verso casa, prima o poi dalle parti della Francia mi avrebbero spezzato le gambe, perché in Francia si usa così. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi e a bordo della mia astronave da guerra!